salve raga questa sera voglio elogiare gli italiani li voglio elogiare alla grande visto che ultimamente ho ricevuto tanti bei messaggi ma tantissimi messaggi tantissimi messaggi fatto il paio di video ho commentato un po di cose e voglio veramente elogiarli perché tutti quelli che mi hanno scritto sotto tutti quelli coloro mi hanno ologgiato mi hanno detto che non vale caso sono stronzo un pezzo di merda faccio schifo maledetto devi morire devi qua devi la va bene io come si dice incasso e ora parliamo un attimo parliamo un attimo allora d'ora in poi cambio registro perché qui con voi bisogna cambiare registro perché è vero che magari uno cerca di spiegare certi concetti farvi capire dei concetti ma purtroppo ho capito che è impossibile che voi capite dei concetti perché l'italiano stessa è una capra anzi è proprio ignorante è proprio una zappa di natura e sappa di natura allora il concetto adesso ve lo spiego io come funziona io vi elogio allora cari italiani di merda perché da ora in poi come ho detto cambiamo registro vi faccio tutti questi complimenti questa sera allora voi italiani di merda che magari mi avete scritto tutte queste cose va bene io vabbè sono tutto quello che so e magari me ne scriverete altre allora se vi chiamerò da ora in poi italiani di merda di merda è merda proprio italiani di merda e ve lo spiego pure perché vi chiamerò italiani di merda perché l'italiano di merda sapete cosa c'era di bello niente perché ultimamente da un po' di anni a questa parte non è più l'italiano della morte ormai gli italiani non ci stanno più gli italiani sono diventati italiani di merda allora io quando magari prendo di petto a voi o vi dico qualcosa subito c'è sta gente che se risente e magari esce fuori quel patriottismo no? quell'essere italiano no? l'orgoglio italiano no? io non mi sento italiano non mi sento essere tanto orgoglioso italiano soprattutto se vivevo in Italia io mi sento orgoglioso italiano all'estero all'estero mi sento italiano all'estero orgoglioso molto orgoglioso di essere un italiano all'estero molto più devo che ci vede in Italia per un semplice motivo perché io vabbè sono andato vivo all'Italia tantissimi anni fa quasi vent'anni fa me ne sono andato all'Italia però da quando sono andato vivo all'Italia l'Italia è peggiorata moltissimo allora il problema è uno solo quando gli sbatti in faccia certe cose la verità io dico la verità insomma perché io per un male vedo l'Italia vedi i canali italiani vedo tutto l'Italia perché a me piace sentire parlare italiano anche se qua si parla spagnolo però mi piace sentire parlare italiano mi piace perché rimango capito visto che sta all'estero in contatto con la comunico con l'Italia tramite televisione tramite quello che vedo su internet leggo molte cose perché sinceramente io mi sento molto patriottico io molto io che vivo all'estero e io l'Italia l'amo l'Italia l'Italia lo scarpone io l'Italia l'amo perché l'Italia fino a poco prima che andassi via io diciamo che era una bella Italia poco più di andata poi da quando mi è stato andato un po' prima da quando mi è stato andato via diciamo che dal 94 da quel periodo lì non è più l'Italia non è più l'Italia l'Italia è cominciata a perdere colpi molti colpi io da quel momento ho pensato ad andarmene via perché ho visto e constatato siccome conosco gli italiani chi conoscevo prima l'ho conosciuto ancora di più anzi diciamo che quelli che ho conosciuto non so più italiani ma so italiani di merda perché ci sono nati per sbaglio in Italia e fanno gli italiani per sbaglio perché non so italiani perché vi dico pure perché perché l'italiano era uno che aveva le palle l'italiano era morto oggi l'italiano non ha più le palle non c'è un caso questi italiani qua non hanno le palle non sono più italiani per un semplice motivo perché il problema che loro non hanno capito è vivere in questo paese e stare succubi di certe problematiche certe situazioni che si svolgono in questo paese per loro è tutto ok allora forse io forse è proprio quello il problema che da quando vivo dall'altra parte sono da un'altra parte a vive ho constatato che è proprio c'è una bella differenza di vita proprio vita stile di vita tutto tutto perché non è più quello stile di vita della volta non c'è più manco quello stile di vita uno pensa che c'è quello stile di vita ma non c'è manco più quell'italia della volta è cambiato è cambiato tutto ma è in peggio in peggio perché l'italia non ti offre un cazzo io vedo sempre io sento parlare lasciamo perdere questo coronavirus che sta a tutti i problemi che sta a creare extra coronavirus allora poi dopo qualcuno non mi visto ci arriviamo allora io ho fatto svariati video per dare un input a qualcuno e qualcuno l'ha capito i video o magari nelle dirette pure che ho spiegato qualcosa l'ha capito perché ancora fortunatamente esistono italiani intelligenti madonna mia guarda ancora ci sono rimasti ma pochi ma ci stanno ancora qualcuno qualche italiano intelligente ancora ci sta ma la maggior parte sono proprio italiani del merda proprio italiani del merda ma merda merda proprio cagarella fischio proprio italiani a cagarella fischio siete allora quando io parlo di certi concetti e spiego magari a volte differenze o magari cerco di l'italia non mi puzza perché perché dice non è possibile che non è possibile che tu parli sempre male dell'italia che tu sei questo che tu sei quello che dici ade qua qualcuno mi ha fatto qualche video contro molti mi hanno scritto mi hanno infamato mi hanno infangato ma di tutti i colori ma per un motivo perché non capisco quando uno parla non capiscono ormai sono diventati africani ma sono africani perché non capiscono più l'italiano non lo capiscono tu gli parli in italiano ma loro ormai sono diventati africani non mai parlano che ne so tunisini libanesi a lingua libica parlano non so parlano altre lingue non sa quello che cazzo parlo e non capiscono non percepiscono l'italiano perché io sono un italiano loro non so quello che cazzo sono diventati perché ormai lì è diventato un miscuglio da roba che mangia si capisce in casa e comprendere una certa l'italiano è diventato molto difficile per loro perciò capiscono a cazzo di cane e allora pal dice a loro capiscono b dice b capiscono c perciò non capiscono un cazzo perché sono perché sono italiani di merda questi italiani di merda allora loro stando dentro casa vivendo a casa loro la maggior parte vivendo a spalle perché sono solo italiani di merda ma sono pure secche perché vivono dentro casa e vivono a spalle di qualcun altro perché normale la maggior parte questi sono italiani soprattutto i giovani la maggior parte non tutti è la maggior parte sanno dietro a un computerino non sa quello non sanno come funziona il mondo non sanno un cazzo si mettono qui scrivono minchiate offendono ti dicono che sei questo sei quello io assorbo perché sono una bella spugna però alla fine rimane sempre l'italiano del merda perché tu sei a casa c'è 30 anni addirittura stanno qui c'è 30 anni non hanno lavoro non hanno un cazzo e mi dicono che l'italia è un bel paese minchia non c'è lavoro non hai prospettive non hai futuro per lavorare la maggior parte se ne vanno all'estero se ne vanno all'estero capito bello hai capito tu che parli tanto devi annattene da sto paese per fare per vedere qualche soldo perché sennò devi stare a casa di mamma e papà o qualche nonno qualche sio che ti aiuta penso perché sei un italiano del merda perché non c'è le palle e questi genitori che vi tengono a casa non hanno manco loro le palle da spangularvi e farle dire assù le maniche e campo e comportarvi da italiani da veri italiani quelli che c'era una volta oggi ne frega un cazzo a nessuno perciò tu sei l'italiano del merda perciò sto bene io mi nonna mi padre mi sio chi cazzo a metà gli due spiccettini per farmi il sabato sera andammi magari in discoteca a romper poi stai a casa continua a fare il parassita perché giusto quello vuoi fare ecco chi è l'italiano la maggior parte italiana sono diventati questi poi come ho detto i genitori o nonni accompagnano questo tipo di cosa perciò sono complici pure loro e quando c'è sta da anche il governi cominciano a fare qualche cosa non dicono mai nulla stanno zitti a pipa non dicono un cazzo perché tanto a loro che gli frega lo stipendiucio la cosa tanto se non trovano lavoro c'hanno dove mangiare va a mangiare da mamma da nonna non hai capito tu ma tu sei un'azzecca sei un'azzecca parassita per questo sei l'italiano del merda non hai le palle per ribellarti perché è uno stato che ti sta mettendo proprio veramente alle strette ti mette con le spalle al muro più con le spalle al muro diciamo che ti mette a pecorina ti mette a pecorina e tu zitto muta cuccia subisci tutto quello che te fanno questi governanti perché se tu mi dici che l'italia va bene non me lo puoi dire perché io vengo sempre in italia e vedo come va l'italia e me lo dicono come va l'italia quando vengo su e non solo c'ho la televisione vedo tutto mi informo tutto quanto perché io amo il mio paese a differenza tua che sei una secca parassita e non fai un cazzo per sto paese ma se solamente scrive offende minchiate basta per questo sei l'italiano del merda l'italiano del merda merda ma veramente del merda capito questo mi fa schifo perché non hai le palle per ribellarti per far per far veramente vedere che questo è veramente un paese con le palle un bel paese invece che fai te ne fotti te ne freghi lasci fare tutto a questi governanti che spaccano il paese lo distruggono non gliene frega un cazzo di voi ve fanno i contentini tu zitto allora aumenta la benzina e tu zitto aumenta quello e zitto aumenta le tasse e zitto non te sistema le strade che sfondi la macchina e tu zitto la burocrazia fai file code cose e poi dicono la sanità la migliora al mondo quando tu per farti una tacca una cosa devi spettare un anno e che è bella questa sanità questa è una bella sanità non te può fare una tacca non te può fare le visite c'è una cosa al seno una cosa qui la cosa devi spettare un anno due anni ma che è poi dicono la sanità italiana migliora al mondo certo prima te fanno morire poi diventare migliore questa è una sanità e si sta vedendo adesso col coronavirus come stanno in difficoltà una sanità con le palle non puoi dire che tu tevanti della tua sanità e poi guarda come state capito non puoi dirlo perciò è quello anche il problema perciò dovresti fare mentre lo gano uno stato che taglia la sanità non è un buono stato uno stato che taglia tanti cazzi non è un buono stato e se tu acconsenti tutto questo perché tu lo vuoi perché tu lo vuoi però te lamenti te lamenti ti incassi ti fai rito del culo ah poi qui non si fa una lira qui al lavoro non c'è e la benzina costa e l'assicurazione e questo costa questo costa porca puttana che palle mi hanno rotto il cazzo queste però non fai un cazzo non fai nulla per cambiare il paese non fai nulla 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 ti accontenti di quello che hai tira avanti da zitto perché non c'è le palle perché l'italiano non è come lo spagnolo il francese o altri altri paesi che hanno le palle quando devono fare una cosa la fanno per questo ti dico che sei un italiano di merda per questo te lo dico e non te devi offendi perché ti sbatto un faccia la verità e tu ti offendi ma pure tu sei italiano ah certo sono italiano ma io sono italiano un vero italiano vero con le palle tu no tu no tu stai zitto a cuccia te fai sottomette l'europa te sottomette i tuoi politici te sottomettono sei sempre sottomesso tu ti incazzi ti incazzi va sbraiti fai ma non fai nulla ecco dove ecco perché te chiamo italiano del merda ecco perché quando faccio quei video per farvi capire che cosa significa un italiano che ha le palle e tu non ce l'hai tu non ce l'hai tu devi essere l'ultimo a parlare non solo siamo mal visti in tutta europa non ce può vedere nessuno e questo te lo posso garantire gli italiani sono sempre visti in malo modo malo modo malo modo perciò e qui ne ho avuto pure molte prove ne ho avuto pensa amano più i marocchini che noi ho detto tutto insomma i marocchini sono molto più ben visti di noi perciò di che stiamo a parlare quando noi i marocchini li li sfanculavamo quando stavamo in italia io volevo comprare che stavano per le spiagge vi ricordate no ok questo deve far riflettere deve far capire invece da star qui a scrivere merda 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 a me che io ti dico la verità e ti dico anzi cerco di espronare per fare meglio per il tuo paese per non farti più chiamare italiano del merda ma invece fatti chiamare italiano del merda a te ti piace c'è godi c'è godi perché dopo vieni qui e scrivi e scrivi e scrivi e offendi e scrivi invece da star qui a scrivere a offendere fai qualcosa per paese tuo capito italiano del merda fai qualcosa alza la testa tira su sta cazzo di caposcia del merda invece da andare laggiù a guardare la tanziera e scrivere minchiate alzala sta caposcia ha capito italiano del merda questo devi fare questo devi fare e io sono orgoglioso di essere un italiano che sono andato all'estero con le proprie forze ce l'ha fatta se è fatta una posizione sto ben io non me lamento perché volere è potere perché c'è una cosa da fare se non ti piace questo paese che te lamenti sempre che te rota il culo che te fa incazzate e guarda la struttura e cose o lotti o te ne vai però non mi vuoi dire che l'italia è bella nel senso bella come bella è stata una bella italia ma non mi vuoi dire che fa tutto bella italia perché quello che ti elenco fa tutto schifo tutto non c'è una cosa che si salva tutto quello che io vedo qua e vedo la non c'entra un cazzo sembra da stare in un altro mondo e io quando vengo in italia mi vergogno mi vergogno e alle volte mi vergogno pure di essere italiano ma io sono un patriota molto forte sono molto patriottico sono molto patriottico tu no tu sei una testa di cazzo italiano di merda testa di cazzo che sta dire a un computer a scrivere puttanate e più scrivi puttanate più ti dirò che sia un italiano di merda che non pare un cazzo ciao raga